Il lancio in avanti di Masiello, palla troppo profonda per Gomez, c'è il controllo della difesa del Palermo, palla persa Gomez, 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 il tocco per Petagna, ancora Gomez può calciare, lo fa ora al tiro! In calcio d'angolo Posavec dopo 32 secondi, ancora una volta un errore a centrocampo dei giocatori del Palermo, la palla persa da Ciocev e poi Petagna per Gomez, il tiro e la parata di Posavec.